Provincia di Brignisi al lavoro per il nuovo anno scolastico. Una serie di sopralluoghi sono stati effettuati in questo giorno da una delegazione dell'amministrazione provinciale, guidata da Valentina Fanigliulo, consigliere provinciale con delega alla scuola. Lo scopo è quello di avere una mappatura della situazione attuale degli istituti scolastici e degli interventi necessari per preparare il nuovo anno scolastico, che ovviamente si presenta particolarmente complesso dal punto di vista organizzativo e di sicurezza, con la necessità di provare ad anticipare i tempi di intervento per poter permettere un accesso sicuro agli studenti che a settembre saranno chiamati a tornare tra i banchi di scuola. La scuola è stata un attimino trascurata. Benvenga, purtroppo a volte si dice che non tutti i mani vengono per nuocere, benvenga che sia stata attuata questa attenzione nei confronti della scuola, perché tanti istituti hanno diverse difficoltà. Stiamo concordando per i lavori che bisogna fare per accogliere, per sistemare le classi, comunque creare diversi ingressi per assicurare il distanziamento e quindi insieme a loro stiamo valutando quello che occorre in emergenza e sinceramente potremmo avere la possibilità di intervenire per altre questioni che non sono meno importanti di questo, se vogliamo, con altri finanziamenti.